Dopo la denuncia del consigliere regionale del PD Pierpaolo Pietrucci riguardo le condizioni da Terzo Mondo in cui lavorerebbero gli addetti al servizio mensa dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, con particolare riferimento alla temperatura all'interno del container dove si sporzionano e riscaldano i pasti, che raggiungerebbe 35 gradi centigradi, entra nella questione Mauro Antonello Tursini, direttore del Dipartimento Tecnico della ASL 1 Abruzzo. La nuova direzione aziendale ha detto, dopo 15 anni di inerzia, ha messo mano al problema facendo approvare a fine 2023 un progetto per realizzare nuovi locali mensa, sulla base del quale, nei mesi scorsi, è stata espletata una prima procedura d'appalto che però è andata deserta. Il progetto dovrebbe prevedere nuovi locali per la cucina, per la mensa e anche un cortile annesso, il tutto ubicato nell'edificio 12 dell'ospedale San Salvatore, per un importo complessivo pari a 200.000 euro. Due mesi fa, ha ribadito Tursini, è stata indetta una gara d'appalto a cui nessuno ha risposto, per individuare l'impresa a cui affidare i lavori della nuova mensa è già in corso una gara negoziata. In attesa di ciò come soluzione immediata e provvisoria, il direttore del Dipartimento Tecnico della ASL ha assicurato come nei prossimi giorni verranno messi a disposizione del container in cui si riscaldano i pasti ulteriori condizionatori per ridurre il disagio dovuto alle alte temperature.